Giulia Summer Yes I Camp L'associazione Giulia Ollus si occupa dal 2006 di oncologia e psico-oncologia pediatrica. Grazie alla B-Solidale nasce il primo Giulia Summer Yes I Camp, un campus dedicato a piccoli e giovani protesizzati a causa di una malattia oncologica, calcio e danza alle attività principali e poi laboratori di musica e cucina, pet therapy e molti altri sport e attività.